La classe dirigente di Giorgia Meloni è imbarazzante, è veramente raccapricciante. Voi mi direte che anche le classi dirigenti dei grillini erano pietose, spesso vero. Ci sono ex 5 Stelle che andrebbero veramente inseguiti col forcone. I renziani sono stati peggio del peggio, i berlusconiani erano imbarazzanti, i leghisti sono imbarazzanti, la lista è lunga. Però ragazzi, la Meloni sta tirando fuori dei fenomeni, mica da ridere, che poi non è che li tira fuori, c'erano già, solo che non avevano potere, adesso hanno potere. Sul fatto quotidiano di stamattina, io ho parlato di un personaggio che forse voi conoscete, forse voi no. Ma secondo me vi è capitato di imbattervi lui anche televisivamente negli ultimi giorni. È il vicepresidente della Camera, è uno dei personaggi più forti di Fratelli d'Italia, anche se si dice a non avere ultimamente un bellissimo rapporto con la Meloni, e anche per questo, pare per questo almeno, non aver avuto incarichi di governo, però è un uomo molto potente. Fabio Rampelli. Sul fatto quotidiano io ho raccontato la sua storia. La voglio raccontare anche in questo video, leggendo larghi stralci di questo mio pezzo, che come sapete fa parte della mia rubrica settimanale sul fatto quotidiano cartaceo, che si chiama Identikit, e esce ogni martedì mattina. Ovviamente non faccio questi video subito, perché altrimenti non c'è nessun motivo per acquistare il fatto quotidiano, che comunque anche senza il mio pezzo va acquistato, anzi, soprattutto perché non ci sono i miei pezzi, va acquistato perché ci sono delle firme straordinarie, e ricordatevi sempre che il fatto quotidiano vive di voi e grazie a voi. Non abbiamo nessuna forma di finanziamento se non il vostro aiuto. Quindi stateci vicini, restateci vicini. Chi è Fabio Rampelli? Cerco di raccontarvelo. E guardate che è meraviglioso a suo modo, il mondo meloniano è meraviglioso. Forse con Giorgia Meloni sbagliamo approccio e siamo troppo cattivi. Tutti a ricordarle, io e noi per primi, che non ha una classe dirigente, e che attorno a lei, che già non è la Thatcher, il livello è infimo. Ma forse in realtà è una scelta. Cioè forse in realtà la Meloni si circonda di personaggi non proprio geniali per scelta. Forse Donna Giorgia lo fa apposta, forse si circonda di statisti diversamente esaltanti per metterci di buon umore. E per ricordarci che se ce l'hanno fatta loro, allora c'è davvero speranza per tutti. Vien da pensarlo. Cioè uno guarda la gente attorno alla Meloni e dice, cavolo, però, se ce l'ha fatta loro, aver successo nella vita, addirittura diventare persone potenti, ce la può fare chiunque. Prendete tra i tanti Fabio Rampelli, romano, 63 anni ad agosto, deputato dal dicembre 2005. Dicembre 2005 qualcuno potrebbe dire hai fatto un rifuso. No, lui entrò in Parlamento nel dicembre 2005 perché, quindi alla fine di quel pessimo governo Berlusconiano 2001-2006, perché subentrò a uno che non c'era più, e quindi sai che non so se non c'era più, ma insomma subentrò uno che uscì di scena, spero non per motivi di vita, ma questo non me lo ricordo, però dicembre 2005 uno dei primi usciti che era stato, dei primi non eletti che era stato Rampelli, che al tempo se non sbaglio era consigliere regionale nel Lazio, consigliere comunale in una città, ma che do consigliere regionale, e lo misero, lo resero deputato, non che fosse fondamentale saperlo, ma ci tenevo a specificare questa cosa del dicembre 2005. Uno così, Rampelli, è vicepresidente della Camera, ve lo giuro, è vicepresidente della Camera. E tutto sommato va bene così, perché se il presidente del Senato è la russa, allora vale tutto, e siamo sempre lì. Se la russa è presidente del Senato, non ci possiamo stupire se Rampelli è vicepresidente della Camera. Di Rampelli si diceva fino a poco tempo fa che era cruciato con la Meloni perché nel partito tende, la Meloni, a dare più spazio a gente come Donzelli. Se così fosse, saremmo tutta la vita dalla parte di Rampelli, perché arrivare secondi dietro Donzelli, Donzelli, è come perdere a Ramino giocando da soli. In effetti, poverino, se Rampelli ce l'ha con la Meloni perché gli preferisce Donzelli, anche io sarei incazzato, perché, accidenti ragazzi, cioè, essere mesi dietro Donzelli è proprio una roba, amma mia, terrificata. Povero Rampelli. Rampelli ha dalla sua una storia irreprensibile, attenzione, fronte della gioventù, movimento sociale italiano, alleanza nazionale, allena. Un percorso per nulla in odore di fascismo, come conferma un altro suo fiore all'occhiello citato dalla notoriamente boscevica, o boscevica, meglio boscevica, Wikipedia. Sentite cosa ci ricorda, Wikipedia. Nel 1989, insieme a Gianni Alemanno, fu arrestato lui, lui, Rampelli, a causa degli incidenti avvenuti a Nettuno, poco prima del passaggio del corteo con il presidente degli Stati Uniti, Bush, la moglie, che si recava in visita al cimitero americano. Cioè, stando per arrivare Bush e la moglie, che partecipa agli scontri, insieme ad Alemanno, i nostri Rampelli, e lo mettono in galera. Meraviglioso. Voi direte, sì, era il 1989, aveva 29 anni, era giovane. Tutto vero, io a 29 anni non facevo queste cose, ma magari sono scemo io, è probabilissimo. Eia, eia, e la la. Forse dispiaciuto per non avere trovato spazio nel governo, e ancora di più nel cuore della Meloni, perché si vede che ne soffre Rampelli, l'inarrestabile Rampelli si sta sbracciando per attirare l'attenzione, riuscendoci, gliene va dato atto, con gran talento. È sua, per esempio, qualcuno pensava fosse uno scherzo, no, è sua, c'è stata veramente, è sua la proposta di legge che prevede multe fino a 100.000 euro per chi usa termini stranieri, ragazzi, veramente. Cioè, siamo arrivati al punto che c'è gente che ha fatto una proposta di legge di questo tipo, è meraviglioso, uno utilizza una parola straniera, um, 100.000 euro, così impari, zozzo, vergogna a usare le parole straniere, su di ciò che non sei alto, bravo Rampelli, a punire questi reietti. Un'idea sublime, a metà strada tra il bel ventennio che fu, una sborgna venuta male, e un rigurgito esofageo di nazionalismo bischero. Oltretutto Rampelli non si è neanche reso conto che se tale proposta passasse, questo è il genio, il primo a essere mutato dovrebbe essere proprio il governo, visto che ha pensato bene di istituire il ministero del Made in Italy. E questo è un genio. Cioè, io sono Rampelli, faccio una legge contro quelli che usano termini straniere e non mi rendo conto che il primo ministero ad avere un nome straniero l'ha fatto la Meloni col ministero del Made in Italy. Quindi cosa fa? Il multe il governo? Non solo. Rampelli, se passasse la sua legge, dovrebbe fare una bella multina anche alla Meloni che in uno dei suoi primi interventi ufficiali da presidente o presidentessa, fate voi, del Consiglio, si è definita underdog, che non credo essere una parola italiana, nell'attesa di trovare un corrispettivo autarchico e italianissimo di parole sacrile che come dispenser, mouse e computer, che sono parole straniere, che si fa? Rampelli? Rampelli, attenzione, ci ha fatto sapere che lui, anzi, giova comunque riconoscere, che il magnanimo Rampelli ci ha fatto sapere che lui non ha alcuna intenzione di proibirci l'uso di parole come barra e croissant. Com'è umano lei? Com'è umano sto Rampelli? Ma te lo immagini? Uno come Rampelli è davvero convinto che se non ci avesse detto che noi non potevamo usare la parola barra, noi non l'avremmo usata. Cioè te lo immagini Rampelli nella sua testa è convinto veramente cioè lui si sveglia e dice oh, ho fatto sta proposta di legge che magari passa e magari no e sicuramente non passerà perché sto paese può succedere di tutto ma forse a sto livello non ci arriviamo e chi lo sa magari sbaglio e dice però voglio tranquillizzare gli italiani perché possono ancora dire bar o croissant. Cioè è convinto di essere così importante che noi magari andiamo che ne so a far colazione e siamo lì che stiamo per dire che ne so alla nostra compagna la nostra moglie andiamo al bar e poi ci blocchiamo cosa dobbiamo dire andiamo all'alimentari perché altrimenti ci sente Rampelli ma che cazzo ma ci rendiamo conti in che mani siamo possiamo utilizzare la parola croissant ma senti un po' io pensavo invece quando vado a colazione che se avessi detto che so croissant in un cornetto sarebbe spuntato Rampelli col manganello a picchiarmi ma che cazzo di certo esiste al mondo è meraviglioso ma io veramente sono convinto che la Meloni lo fa apposta lo fa per renderci allegri per cui in effetti vede Rampelli e gioisce è felice è sereno è illere no? ci mette gioia Rampelli forse dico forse perché per la cronaca e anche per la storia il Feldmaresciallo ipotetico per carità Rampelli è anche lo stesso che 15 giorni fa più o meno parlò di cito testualmente persone dello stesso sesso che chiedono il riconoscimento di un bambino che spacciano per proprio figlio è lo stesso lo disse in un programma di La Sette un'altra uscita per nulla retrograda greve fuori dal tempo rincarata attenzione da quel che scrisse il giorno dopo su Facebook Rampelli era la festa del papà e lui non pago di tutto il casino che aveva fatto con quella frase ci sono dei genitori anzi non genitori delle coppie omosessuali che spacciano un bambino per il loro figlio il giorno dopo rincarò la dose e disse auguri a tutti i papà consapevoli di non poterlo essere senza una mamma affermazione scrisse su Facebook questo genio tutt'altro che banale di questi tempi perché c'è chi ha scambiato le persone per oggetti o animali o specie arboree e i bambini per puffi a proposito di peluche perché scrisse peluche e qui c'è l'ulteriore tocco di genio e di eleganza il riferimento al peluche era un'allusione ai contestatori della Meloni a Cutro dopo la tragedia in mare un segno ulteriore dell'eleganza sopraffina e della modernità sfavillante di quest'altro ferro vecchio a meno della destra nostrana cioè citò i peluche come un ulteriore attacco ai contestatori della Meloni che vi ricorderete alcuni di loro lanciarono dei peluche in maniera critica e come forma di contestazione garbata per una tragedia in mare quella di Cutro dove erano morti anche dei bambini che avevano tra le mani dei peluche che poi erano stati ritrovati purtroppo in mare è uno così a Rampelli e vi posso garantire che potevo andare molto più per le lunghe potevo trovare anche altri aneddoti meravigliosi su Rampelli mi sono limitato a citarne 3 o 4 anche perché la rubrica non deve essere lunga 3 pagine ma 3600 battute però alla fine io concludo il pezzo e concludo questo video anche con un momento di gioia con un momento anche di riconoscenza nei confronti di Rampelli perché? perché secondo me è positivo per certi mezzi che esistono i Rampelli e per questo io scrivo grazie per tutti questi fenomeni Donna Giorgia e perché la ringrazio? perché la Meloni porterà definitivamente il paese al capolinea però se non altro ridarà lustro e ridarà slancio alla satira italiana e son soddisfazione e son soddisfazione grazie a tutti i nostri